Innamoramento di Orlando, libro primo, canto quattordicesimo, ottava e quaranta. Ma stavamo, dovevamo concludere il discorso sugli oggetti incantati. Come, no, faccio come boiardo, da un video passo all'altro. Insomma, dicevo, di oggetti incantati e piena la mitologia di ogni popolo, ricordiamo l'anello di Gigi e quello di Ivan, l'elmo di Ade, l'erba del gigante Morgante, la pietra elitropica di alcune novelle del Boccaccio e così come per depotenziare le necromanzie, gli incanti, si hanno talora dei talismani quali anelli, data dalla dama del lago all'ancillotto, da Isotta a Tristano e dalla regina di Scozia al figlio Gadisver. Ottava e quaranta. Perché la guarda faceva quel giorno? Stavasi armato al lato alla fontana, il scudo a un pino aveva sospeso il corno e Brigliadoro, cavallo di Orlando, ricordiamoci, Conte di Brava, Brigliadoro e Durlindana sono le dotazioni di Orlando, la bestia soprana, pascendo l'erba, gli girava intorno sotto una palma all'ombra prossimana un altro cavalier stava in arcione, questo era il franco Oberto da Leone. Non so, signor, se odisti più contare l'alta prudezza di quel forte Oberto, ma fu nel vero un baron d'altaffare, ardito e saggio, ed è ogni cosa esperto, tutta la terra intorno ebbe a cercare, come si vede nel suo libro aperto, costui facea la guarda allora quando John se la dama allato al conte Orlando. Il re Adriano e lo ardito Crifone stanno nella loggia a ragionare di amore, Aquilante cantava e chiarione l'undice sopra e l'altro di tenore. Va inteso così, Aquilante cantava da soprano, chiarone da tenore e Brandimarte faceva da contralto. che la musica fosse un elemento fondamentale dell'educazione cavalleresca è fatto accertato. Del resto si prende dall'esempio dall'antichità uno per tutti Achille che suona la lira e canta per consolarsi. Ma il re Ballano, che pieni valore stassi con antiforda e albarosia de' arme di guerra, dì con tuttavia, la damisella prende il conte a mano e da lui pose quello annello indito, lo annel che fa ogni incanto al tutto vano. Or se in se stesso il conte risentite scorgendosi presso il viso umano che gli ha d'amorsi forte il cor ferito, non sa come esser posse e appena crede angelica esser quivi eppur la vede. La damisella tutto il fatto intese, sì come nel giardino era venuto e come Dragontina ingannò il prese allorché ogni ricordo avea perduto, poi con altre parole se distese come un umil prieghi chiedendo aiuto contro Agricane il qual con cruda guerra avea spianato e tarsa la sua terra. Ma Dragontina, che al palagio stava, angelica ebbe vista giù nel prato. Tutti i suoi cavalieri presto chiamava, ma ciascun si ritrova disarmato. Il conte Orlando sull'arciò montava, e tebbe uberto ben stretto pigliato, avenga che da lui quel non se guarda, lo anelli posa in dito che non tarda. E già sono accordati i due guerrieri tra tutti gli altri di incantazione, orquivi raccontar non è mestieri, come fosse nel prato la tenzone, prima for presi i figli di Olivieri, l'un Aquilante, l'altro Fogrifone, il conte avante non li cognoscia, non divandate, se allegrezza via. Grande allegrezza ferno i due fratelli, poi che se fo' un altro cognosciuto, or Dragontina fa la mente insani, che vede il suo giardino esser perduto, lo anelli tutti i suoi incanti facea avani, sparve il palaggio e mai non fo' veduto, scompare il palazzo di Dragontina, lei sparve, e il ponte, il fiume con tempesta, tutti e baron restarno alla foresta, ciascun pian di stupore la mente avia, l'uno e l'altro in viso si guardava, chi sì, chi non, di l'orse conioscia, primo di tutti il gran conte di Brava, il conte di Brava ricordiamole Orlando, fece parlare a quella compagnia, ciascun pregando confortava a dare aiuto a quella damma pura che gli avea tratti di tanta sciagura, raccontare a Gricane il grande attedio che avea disfatta sua bella cittade ed intorno alla rocca avea lo assedio, già con quei cavalieri mossi a pietade, e giurar tutti di porvi rimedio insinché in man potran tenire le spade e di fare a Gricane indipartire o tutti insieme in albraca morire. Già tutti insieme sono posti a camino via cavalcando per le strade scorte, ora torniamo al falso Trufaldino che dimorava a quella rocca forte, lui fu malvagio ancora da piccolino e sempre peggiorò sino alla morte, non avendo i compagni alcun sospetto prese cercassi i turchi tutti il letto, non valse al bontorindo essere ardito né so franchezza all'alto sacripante che ciascadunde loro era ferito per la battaglia del giorno davante per sangue perduto indebilito e fur presi improvvisi in questo istante le golli Trufaldino ai piedi e braccia ed è una torre al fondo ambili caccia poi manda un messaggero ad Agricane dicendo che a sua posta era suo nome a via la rocca e il forte Barbacane e che due re tenia legati come voleva donarli presi in sulle mani ma il tartare a quell'ire alciò le chiome con gli occhi accesi con superba faccia così parlando a quel messo minaccia questo fatto di essere sussiegosi di essere tracotanti non piaccia a Trevigante mio signore né per lo mondo mai si possa dire che allo essere mio sia mezzo un trevitore Alla Trevigante è una divinità stracena che talvolta veniva usato in Trinità con Apollo e Maometto si appunto da costituire una Trinità da porre alla Trinità cristiana vuole adonarli in sulle mani ma il tartare a quell'ire alciò le chiome e non piaccia a Trevigante mio signore né per lo mondo mai si possa dire che allo essere mio sia un mezzo traditore vincer voglio per forza e per ardire tra fronte scoperta farmi onore ma a Te con il Signore farò pentire come ribaldi che aviti ardimento pur far parole a me di tradimento bene agio avuto avviso e certo solo che non si può tenere lunga stagione a quella rocca impender poi farollo per un de piedi fuori ad un balcone e te come il laccio attaccarò al suo collo ciascadun lì è stato compagnone a far quel tradimento tanto scuro sarà d'intorno in peso sopra il muro il messager che lo vedea nel volto or bianco tutto rosso come un fuoco ben sarebbe volentieri via tolto che gionto si vedeva a strano gioco ma sendosi agricane la rivolto partisse da nascose in quel loco par che il nabisso via fuggendo il mene par che se lo prendesse il diavolo se lo portasse menasse il diavolo d'altro che Rosa aveva le bracche piene dentro la rocca ritorna tremando e fece a truffaldì in quest'ambasciata ora torniamo al valoroso Orlando che se vi è incollardita brigata e giorno e notte forte cavalcando sopra di un monte arriva una giornata dal monte si vedea senz'altro in ciampo la terra tutta e dei nemici il campo tante requivi la gente infinita e tanti pavaglioni tante bandiere che Angelica rimase sbigottita poi che passare convienco tante schiere prima che nel castel faccia salita ma quei baron dricciar la mente altiere e destinarlo che la dama vada dentro la rocca per forza di spada le cose si risolvono per forza o con le buone o con le cattive e nulla sapendo il tradimento che il falso truffaldì il fatto ria via ma sopra il monte con molto ardimento danno ordine in qual modo e in qual via la dama si conduca a salvamento a maldispetto di quella zenia quarniti de tutte arme e suoi destieri fallo consiglio gli arditi guerreri ed ordinare la forma e la maniera di passare tutta quella gran canaglia il conte orlando è il primo alla frontiera con brandimarte a entrare alla battaglia poi son quattro baroni in una schiera che d'intorno alla dama fan serraglia oberte daquilante chiarione e il re adriano è il quarto compagnone quelli hanno ad ogni forza e vigoria tenir la dama coperta e difesa poi son tre gionti insieme in compagnia che quella dietro guarda hanno la impresa grifone tantiforde albarosia e il re ballano con l'anima accesa or questa che schiera è sì di ardire in cima che tutto il resto del mondo non stima calla del monte la gente sicura con angelica in mezzo di sua scorta la qual tutta tremava de paure la sua bella faccia paria morta e già son giunti sopra la pianura né di loro ancora la gente accorta ma il conte orlando cavaliere adorno alcia la vista e pone a bocca il corno inizia a suonare a tutti quanti gli altri era davanti suonava il gran corno con tempesta quello era un dente integro di elefante lo ardito conte di suonare non resta di sfida quelle gente tutte quante agricampo l'iferno e ogni sua gesta e tutti insieme quei re di corona e sfida la battaglia e forte suona quando fu il corno nel campo sentito che incelferiva con tanto rumore non vi fu re né cavaliere ardito che non avesse di quel suon terrore solo agricane non fu sbicotito che fu corone e pregio di valore ma con gran fretta l'arma e sua dimanda e fa sue schiere armar per ogni banda fu in gran fretta e re agricane armato di grosse piastre del sbergo se vestia tranchera la sua spada cenze al lato e un elmo fatto per negromanzia al petta e tra le spalle ebbe allacciato cosa più forte al mondo non avia salomone il fieffar con suo quaderno e fu collato al fuoco dello inferno salomone si intende un incantatore non salomone di re di bretagna il barone di bretagna e veramente crede il campione che una gran gente mo li viene addosso per occhi inteso a via Galafrone esercito adunava più non posso perché era quel castello di sua ragione destinava di averlo riscosso costruzimava scontrare agricane non con Orlando venire alle mane già sono spiegate tutte le bandiere e suona gli strumenti da battaglia il re agricante abbaiardo il destriere dalle unge al crine coperto di maglia e viene davanti a tutte le sue schiere nell'altro canto dirò la travaglia e de nove baroni un tale ardire che mai nel mondo più se ho dette dire